E qui te è un vip, perchè? Cosa sei il vip del server? E' vero, on this server now. Admin quit your vip on this server now. LOL! E' da faa, eh? I'm a VIP, motherfucker. LOL! Lo sai perchè? Lo sai perchè? Praticamente tu sei in questo server e li stai sponsorizzando più o meno. Beh, è vero alla fine. Pippino di merda. Ah, sciappone! Sciappono! Ah no, ok, io sto cercando. Io sto cercando, quindi è tutto rosso perchè io sto cercando. E' carina sta cosa perchè tipo su carisma diventa tutto nero. Qua invece usano il fatto che prendi danno. No? Che c'è il frame per poterti... Raga, ma io sono un palo. Mi vengono addosso. Zitto che qui te ci cerca! Io ce l'ho. Come funziona sta cosa? Raga, dopo un po' ti frizzi. Ah, ho capito! Ok, ok, basta. Scrivendo prop in chat puoi cambiare quello che sei random. No, sono morto già subito. Però un massimo di 5 volte. Sono già morto subito. Raga, sono... Sono un ninja qua. E siamo in live, tia. Ciao, tia. Ciao! Pfff! Sì, sì! Di nuovo! No, me la cotta è l'altra, ragazzi! È l'altra, è l'altra, è l'altra radio. Va bene! VIT! No! Sei morto! Sei prendendo vita! Hai un HP! Che cazzo devo fare? Ma se io tipo raga voglio diventare qualcos'altro, come si fa? DROP! 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 Però non puoi farlo adesso, puoi fare solo all'inizio del gioco quando ti nascondi. È morto o no? Credo di sì. Sì, è morto, è morto. È quella! Ciao! Eh, ammazzalo! Oh! Hai anche il coltello! Dov'è? Prendi quello! Non ci viene da male! DROP! DROP! Non f***a! Sono una cosa impossibile! Se io scrivo punto esclamativo prop... Anch'io! Io sono un destitto! C'è uno che è un cartellone di P con scritto B! Ma sono io! Forse! Forse! Non lo so! C'è un ascolto che ti salta davanti! Ma quindi adesso raga? Non capisco io! Regà! Devi nasconderti Dimo! Eh, ma c'ho lo sfondo bianco! Ok, allora tu sei il cercatore! Devi trovarci! Sei un proppo! Ah, vi devo cercare! Wait for it! Ok, regà! Regà! Se muovo la visuale... Io sono capuffatissimo, regà! Io sono capuffatissimo! Ok, ho preso caldo! Io sono capuffatissimo! Ma Dimo! Ma io stavo prendendo il sole! Regà, siamo in 33! Eppure dimmi dai il sotto che parlo! Non so perché! E porca puttana dai! Capri, ero di fianco te! Mi sgama! Mi sgama! Dai! Ma raga cosa brutta! Ma perché hai fatto un cartello gigante? Attenzione! Ecco! Dov'è qui? Io ho trovato una bellissima posizione! Io sono insieme a qualcosa! Quindi se mi giro... Se mi giro tipo per guardare... No ragazzo, mi ha preso! Mi ha trovato! Correva straveloce! Ok, ho sentito un cavallo! Oddio che cosa brutta! A stella, regà! Madonna santa! Ma è stata affinata sta cosa! Infatti si! Adesso a queste cos'è! Io sono dei soldi! Sono una mazzetta di soldi! Oh mio Dio! No! Io ero già fattuto! Oh mio Dio! Oddio! Oddio! Non lo so! Questa qua non è una posizione usata! Oddio! Sono una mazzetta di soldi dentro qui! No! Guarda le latine insieme! Mi dispiace! Avete perso! Marduk VR! Regà! No no! Non vi preoccupate! Sono troppo! Ma io voglio essere... Ma io voglio essere un... Un CT! Perché non sono mai un CT io? No no! Non venire dalla stream a guardarmi! No no! Io sono... Sono dei bancari che volano! Quando si spawna non si cambia! Così è più divertente! Va bene! Ma ma qua! Ci sto! Quando si spawna non si cambia ragazzi! Non si cambia il prop! Mi raccomando! Ma si può conterare? Ah io spero che non mi... No! Wax! Prova bagno fa! Tanto manca! Rai! C'ho paura! Ci sono delle casse che cercano di salire sopra altre casse! Ok! E lui è andato! Quindi già l'ha ucciso uno! E perché ci sono dei soldi qua! Amazzo! 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 L'ho già ucciso! L'ho già ucciso! L'ho già 164 HP! tipo ucciso 20 persone pittone di merda pittone e siamo già a 3 signori quello qui non c'è mai stata quella scatola eh vedi no no oh mio dio oh cazzo oh mio dio guarda quanta gente è giù in alto no basta raga dove cazzo mi nascondo io questa cosa è il bustone qua io ho già vinto dove cazzo mi nascondo sei dell'erba dove cazzo vai no ok no ricordiamo che non vale cambiare dove cazzo mi nascondo io questa cosa vieni con me vediamo è qua è morto immediatamente infatti come cazzo mi nascondete con quell'affare non esiste niente di simile su das2 cacchio oh merda no potrei avere dei problemi potrei avere degli enormi problemi no io sono stato un picante sei tu l'uovo vieni qua mi metto in mezzo così guarda mi metto qua a fianco ok addobbatemi addobbatemi scala gialla vieni sono io sono io addobbatemi mi prego ma cosa fai non ci hai visto no mi hanno preso io ero un cestino dei rifiuti blu ero enorme cos'è quella cosa? quella cosa gialla enorme che mi si è diventata ciao we wanna wait we wanna wait gioco ai videogames da quando avevo due anni adesso sono il re del let's play we wanna wait grazie grazie